Siamo con Lucas Hofer, terzo classificato oggi al Marten Foucault Nordic Festival, un bellissimo evento. Beh, proprio non ho parole, quanto è organizzato bene, ma quanto è proprio bello. Come ti tiffa tutta la gente, non c'è uno che va contro di te, sono tutti con tutti gli atleti insieme e questo è proprio un gran bel movimento soprattutto per il nostro biathlon. Spero di tornare l'anno prossimo e di provarci a vincere magari. Fa molto caldo oggi, volevo sapere se ne avevi un po' patito in gara. Io non sono uno da caldo normalmente di solito, però ci ho provato fino alla fine, siamo a 31 gradi. Ieri ho sentito che erano 37, per cui ci è andato anche bene, però era caldo per ognuno e alla fine quando si cerca di andare veloce si suda sempre. Senti, come sta andando questa preparazione? La preparazione sono proprio contento quest'anno. Ergi, ho sentito tutti i lavori di Zatoni, sono sicuro che guarda sto video anche, dopo due settimane di carico intenso l'ho già sentito gli altri giorni che ero un po' stanco perché tutti gli intervalli che abbiamo fatto però ci sta. Adesso è proprio il blocco di carico che ci porta poi avanti per il mondiale a casa, in altra selva. Per cui, come è andato ancora oggi, sono contento perché sono riuscito a far vedere ancora qualcosa di me stesso. Posso dirti che Andrea mi ha mandato un messaggio chiedendomi dove poteva vedere la gara, quindi sappilo che ti ha controllato. Allora di sicuro l'ha guardato, sono proprio al 100%. Come si è inserito in squadra Thomas Bormolini che quest'anno si sta allenando con voi? Proprio bene, proprio usando la possibilità di allenarci con noi sempre insieme, tiene sempre duro ogni allenamento. Proprio mi piace un sacco come ha il suo approccio, cioè come l'ha preso il suo approccio proprio per la stagione nuova e soprattutto la motivazione, soprattutto adesso anche per il mondiale in altra selva. Io lo vedo bene, per cui sono veramente curioso per la stagione invernale. Due anni fa eri lì, quando vi hanno assegnato i mondiali ad Hunter Selva, eri lì a festeggiare insieme a Dominic Vindic, stanno arrivando? Eh, finalmente, un sogno da bambino. C'ho il privilegio proprio adesso quando me l'hai detto perché nel 2006, quando ero piccolo, ci sognavo già perché lì si sapeva che nel 2007 si faranno ad Hunter Selva, che adesso sono arrivati ancora meglio e non vedo l'ora. L'ultima cosa, cosa daresti per vincere una medaglia lì? Eh, darò tutto quello che ho dentro di me, tutta la mia forza e spero di essere preciso al tiro e poi guardiamo a Hunter Selva all'arrivo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.